E dunque la notizia, in questi giorni il popolo milanista è sconvolto, da una parte l'arrivo di Octrie, l'immediato rinnovo di Lautaro Martinez, dall'altra parte Marotta che diventa presidente dei Nerazzurri e Gerry Cardinale che si compra Paramount, in realtà non è proprio così, la cosa l'ho spiegata nella live di oggi, ma insomma sono giorni particolarmente, non difficili, ma sono giorni di discussione per noi milanisti che aspettiamo di capire che cosa accadrà per quel che riguarda la nostra stagione, naturalmente è prematuro, ci sono anche gli europei in mezzo, quindi è normale che tutto un pochino si dilati, ma ci sono alcune cose delle quali parlare per quel che riguarda la stagione che verrà, c'è stato oggi il caso di Ibra, il fatto che la Gazzetta dello Sport si sia interrogata sulla figura di Ibrahimovic e quali sia il suo ruolo operativo all'interno del Milan, probabilmente la risposta è che il ruolo operativo non c'è, nel senso che la sua funzione è una funzione di collaboratore per quel che riguarda Redbird, lui è uomo Redbird, non è uomo Milan e pertanto opera in un regime per l'appunto di collaborazione, quindi probabilmente riferirà certe cose a Cardinale, immagino non cose strettamente legate a quello che non riguarda, ad esempio, non lo so, mi immagino io comportamenti piuttosto che, non credo che entri nel merito delle decisioni ad esempio che prendono Furlani o Moncada o chi per loro, anche perché vorrebbe dire una mancanza di fiducia da parte della proprietà rispetto ai dirigenti che ha messo lì un anno fa, quindi non credo che questa cosa, non credo ecco in un ruolo di sorveglianza, credo in un ruolo molto appariscente, questo sì, un ruolo che permette comunque in un modo o nell'altro di parlare del Milan e di farlo attraverso un personaggio estremamente mediatico, estremamente noto, molto bravo nella comunicazione di se stesso, ma fino adesso, insomma, inefficace per quel che riguarda le azioni legate al nostro Milan. E' anche vero che in questo momento c'è una tensione nei confronti di Ibrahimovic che è abbastanza palpabile, lo si nota dal tenore dei commenti sui social ai suoi post, per cui anche questa cosa va calibrata, in questo momento va calibrata, perché il tifo milanista viviamo tutti su un filo, appesi a un filo, un filo che per alcuni, come sottoscritto, si è già spezzato da tempo, per altri invece resiste nella speranza davvero che questa possa essere l'estate di qualche cosa, ecco, di qualche cosa. I progetti nel mondo del calcio sono progetti che durano un certo periodo, gli instant team non hanno mai funzionato e noi ne siamo la prova quando Elliot arrivò, ne abbiamo parlato ieri con gli stravolgimenti, non ha funzionato nemmeno prima con Yongon Lee o chi per lui e tutta quella campagna acquisti di Fassone e Mirabelli, ci vuole progettualità, ci vuole un progetto che continui in questo senso, in questo senso, seppur paradossalmente, ma le parole di Furlani nella famosa intervista alla Gazzetta dello Sport suonano in questa direzione, suonano come il voler continuare quello che loro ritengono un progetto e quindi puntellando la squadra soltanto con acquisti mirati, acquisti mirati, ma acquisti mirati che molto probabilmente non saranno acquisti molto onerosi. Naturalmente il discorso della valutazione del prezzo del giocatore che faceva Furlani sembra abbastanza ridicola, in realtà io voglio interpretarla come continuare con la logica del money ball, quindi continuare con la logica di prendere dei profili che possano essere ad esempio dei giocatori da rivitalizzare a delle cifre relativamente contenute, perché comunque fino a 20-25, che mi pare essere il massimo di spesa che possiamo permetterci, prendi quello che prendi, cioè non è che trovi i fenomeni, perché se poi sono giocatori che hanno avuto delle interruzioni nel corso della loro carriera è evidente che non hanno mai fatto della continuità e della possibilità di arrivare ad altissimo livello la loro prerogativa, questo mi sembra logico, però è anche vero che magari inseriti in un contesto di squadra potrebbero persino rendere Christian Pulisic, è un esempio, Pulisic ha fatto una buona stagione, speriamo che possa ripetersi anche la prossima, perché comunque ha fatto la miglior stagione della sua carriera, per cui se dobbiamo dar retta alla sua carriera purtroppo non possiamo aspettarci lo stesso rendimento il prossimo anno, se invece magari al Milan ha trovato la sua collocazione, allora potrà essere un'arma importante. È vero che dà un po' fastidio leggendo i giornali per quel che vale, ma prendendoli insomma come riferimento del mondo Milan per le notizie, dà un po' fastidio il fatto che si lega che Tiago Santos, il terzino destro dell'Ir, che è un buon giocatore, costa addirittura 10 milioni di euro, oppure che Brassier, che è un difensore che gioca in Francia, del quale se l'ha parlato anche lo scorso gennaio, costi 10-12 milioni di euro, e poi scopri che ha costato squadre come il Fosbur e come il Bologna. Possono essere anche dei pistaggi, nel senso che magari noi non siamo mai stati dietro a quel tipo di giocatore, ma ecco appare evidente che è molto difficile, molto difficile, ma spero, spero, questa sarà l'estate della speranza, vivrò nella speranza questa estate, spero, non impossibile, spero che davvero ci possa essere, se non altro, non perché improvvisamente hanno deciso di investire nel Milan, no, perché abbiamo visto che Redbird, Cardinale, eccetera, sono affacendati in tutto tranne che in questione di Milan, ma magari per calmare un po' l'ambiente, per dare ai tifosi d'illusione, ecco quella cosa lì, naturalmente noi staremo attenti e monitoreremo tutto perché hanno già provato a farlo l'anno scorso, con risultati modesti, spiace dirlo perché il risultato minimo ottenuto quest'anno è per l'appunto, lo dice la frase stessa, il risultato minimo non può essere un risultato soddisfacente, è un risultato minimo, ecco. Detto questo, vedo difficile che si possa arrivare ai nomi ipotizzati, ce l'hanno menata con Sesco per settimane, poi Sesco è sparito, ce l'hanno menata con Zirk Zee per mesi e poi Zirk Zee è sparito, ora c'è Gimenez del Feinor ma anche lì lo devi prendere, il mercato di attaccanti è costoso, o vai a prendere una scommessa e ci provi, ma devi essere bravo a sceglierlo, devi saper collocare il giocatore all'interno della squadra oppure rischi veramente di fallire in uno dei ruoli fondamentali del Milan della prossima stagione, quello del centravanti, e poi ci sarà da operare in altri ruoli ovviamente, perché quando si è parlato in ultimi giorni di Hummels a me sinceramente sono venuti gli occhi a forma di cuoricino, perché al di là di tutte le valutazioni Hummels è un signor giocatore, da capire anche lì se ha avuto un sussulto in questa fase della sua carriera ultimo prima del declino definitivo, oppure no, ma queste sono tutte cose che dovrebbero saper fare i nostri dirigenti, sono tutte valutazioni che dovrebbero saper fare i nostri dirigenti, auguriamoci che siano in grado di farlo. Poi c'è tutta la questione legata al mercato in uscita, oggi leggevamo nel corso della diretta delle dichiarazioni di giornalisti che dicono che di fronte a offerte irrinunciabili tutte le squadre cedono, anche il Milan cederebbe, beh la condizione del Milan dal punto di vista economico finanziario è una condizione nella quale potremmo tenerli tutti, poi è chiaro che se Teo vuole un aumento di stipendio legittimamente, visto che comincia ad andare nella seconda fase della sua carriera, beh si può anche capire che se ne voglia andare, se al Milan non gli danno quello che lui ritiene giusto. Sul fatto che si debbano vendere per forza io non sono d'accordo, nella nostra condizione, nella nostra condizione, perché la nostra è una condizione che ci permetterebbe di tenere tutti, di aumentare anche il costo della rosa da un punto di vista di ingaggi, ma questo evidentemente, lo sappiamo, non vogliono farlo. E quindi bisogna cercare di fare con quello che si può fare. C'è una questione che ho sollevato sempre nella live di oggi, quella legata alla qualità. Adesso non prendetemi per pazzo, il mio è solo un riferimento al modello di calcio, cioè il Real Madrid. Riflettevo sul fatto che tutti i giocatori messi dentro negli ultimi anni dal Real Madrid, da quando ho intrapreso questa politica, sono tutti giocatori di qualità, sono tutti giocatori che sanno trattare col pallone, anche centrocampisti che dovrebbero essere, fra virgolette, di rottura, sono giocatori qualitativamente molto elevati. È chiaro che io non posso pretendere, anche sapendo che il Milan non spende tutto quello che può spendere, ma non posso pretendere che il Milan prenda Mbappé, chiaramente. Però mi piacerebbe cominciare a ragionare su questa cosa, cioè sul fatto della qualità degli interpreti. Naturalmente qualità degli interpreti che deve essere funzionale a una squadra equilibrata e qui entrerà poi in gioco il lavoro del nostro probabile futuro allenatore, e cioè Fonseca. Però potremmo cominciare a ragionare in questo senso, dato che sento parlare del mediano di rottura, del giocatore che faccia filtro, di giocatori muscolari, eccetera, sarebbe interessante intavolare una discussione sul ritorno della qualità nel calcio, in linea generale e poi anche relativa al mondo Milan. Il ritorno a un calcio che sappia affrontare anche un campionato tattico come quello italiano, anche un campionato fisico come quello italiano, con la bontà degli interpreti e con la qualità degli interpreti, in un contesto organizzato. Questo potrebbe anche farci pensare a ridisegnare il centrocampo del Milan in un altro modo, in un altro modo, ma avremo modo di parlarne magari nei prossimi giorni. Aspetto i vostri commenti, scriveteli qui sotto e grazie a tutti.